Il cyberbullismo colpisce più a fondo del bullismo. Questo perché non si limita ad episodi circostritti, ma può durare anche per tutto l'arco della giornata e si estende ad una rete potenzialmente enorme. Stalking online, pubblicazione di dati personali, video privati caricati in rete, minacce, diffamazione, tutto ciò è considerato un reato, che porta le vittime a soffrire di ansia, depressione e tentativi di suicidio. Ciò che spaventa di questo fenomeno sono i dati in allarmante crescita, soprattutto nelle scuole. Ecco perché la prevenzione e la sensibilizzazione dei più giovani potrebbe essere un piccolo passo per cercare di combattere un pericoloso nemico invisibile. Il progetto si basa sul spostare l'attenzione sulla prevenzione del cyberbullismo, in particolare stimolando delle azioni di rispecchiamento empatico nei ragazzi e nelle ragazze, al fine proprio di far acquisire una struttura di una classe, di una piccola comunità al cui interno i ragazzi appunto si aiutano in maniera scambievole. Quindi l'intervento della professoressa Pediconi dell'Università di Urbino ha svolto tutta una serie di attività proprio per cercare diciamo delle dinamiche latenti che potrebbero sfociare in atteggiamenti di cyberbullismo e una volta rilevate queste dinamiche latenti il Consiglio di classe interviene per poter in qualche modo agevolare una collaborazione, una partecipazione a livello della classe. Ecco noi pensiamo come scuola che tutte queste manifestazioni di bullismo e cyberbullismo debbano essere in qualche modo prevenute, perché quando arrivano poi alla punizione, diciamo a quella che è la sanzione, il lavoro diciamo è finito ed è fallito. E quindi spostare sull'empatia piuttosto che arrivare a forme di cyberbullismo. Questa giornata per noi è molto importante perché rappresenta un momento significativo di questo progetto che vedrà l'intervento anche dell'Arma dei Carabinieri, la dottoressa Pediconi dell'Università degli Studi di Urbino, il dottor Lanzi che ha lavorato già con noi in precedenza per combattere tra virgolette il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e analizzarlo in quelle che sono le dinamiche sottese ma anche a volte purtroppo esplicite. Sono due classi tra l'altro coinvolte in questo progetto di ricercazione, una dell'Istituto Cecchi e una del Liceo Artistico Mengaroni e devo dire che i ragazzi hanno lavorato con serietà, con impegno, con attenzione, quindi dimostrando anche l'importanza di questo percorso in cui erano coinvolti. E per noi è stato un segnale importante e speriamo che ulteriori finanziamenti del Ministero ci consentano di portare avanti questo filone di ricerca. Ecco, e poi importante il valore aggiunto è la collaborazione tra le scuole. Si è lavorato con due classi afferenti a due istituti diversi e questo lavorare in rete rafforza quella che è l'importanza del percorso progettuale e dell'innovatività della ricerca che stiamo conducendo. Però è chiaro che la partecipazione diretta e l'interazione tra i ragazzi sono delle azioni insostituibili per una scuola. Per quanto la mediazione, l'online può essere un contributo per la docenza, l'insegnamento, però quando entriamo nelle educazioni è impossibile prescindere dalla presenza. E questo progetto in qualche modo ha restituito anche delle forme di aggregazione utili, educative per le nostre classi.